L'autrice era non venir meno ad un principio che non sempre è stato rispettato, che è quello di accorpare voto regionale e voto delle amministrative, perché il collega Palese ha ragione sul dato che riguarda i consigli regionali, ma vede, collega Palese, anticipare il voto delle regioni avrebbe voluto dire quasi automaticamente portare allo sdoppiamento del voto tra regionali e amministrative. Quindi, ripeto, pur avendo ascoltato con attenzione le considerazioni fatte dai colleghi e sottolineando che non ci sono ragioni fondative della incostituzionalità, il gruppo del Partito Democratico voterà contro la questione pregiudiziale posta. La ringrazio a questo punto, poiché non è ancora decorso il termine di preavviso di 20 minuti previsti dal regolamento per le votazioni nominali con il procedimento elettronico, sospendo ora la seduta che riprenderà alle ore 12.10. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.